Le modifiche alla disciplina del trasporto sanitario in Toscana al centro di una proposta di legge è passata con un voto a maggioranza tutti i gruppi favorevoli astenuto il Movimento 5 Stelle. Una legge che semplifica la tipologia delle attività di trasporto sanitario autorizzabili riducendole da 3 al 2. Saranno il trasporto sanitario di soccorso di base e il trasporto di primo soccorso e di soccorso avanzato. La differenza non dipenderà tanto dalle caratteristiche proprie del soggetto autorizzato, i mezzi di trasporto sono gli stessi, così come il numero e la qualifica dei soccorritori, quanto dalle scelte aziendali in merito all'integrazione dell'equipaggio con proprio personale sanitario. Ad illustrare il provvedimento è il Presidente della Commissione Sanità. I mezzi di primo soccorso e di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti come quella dell'età dei mezzi per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi o alcune date sui volontari, sull'età dei volontari e quindi abbiamo ritenuto e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare i termini per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31-12-2026. Quindi ci saranno due anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta. Ampio il consenso in aula. Il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà due anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi di fatto se tu perdi un volontario perdi un valore straordinario. Allora, la giudichiamo positiva, abbiamo votato a favore. Ben essere chiari, il volontariato sociale, le associazioni classiche, quelle che fanno il trasporto sanitario sono una gamba imprescindibile della sanità in generale e della sanità toscana in particolare. Intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario, diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è una eccellenza e un elemento di grande grande eccellenza appunto nella nostra regione. Una legge è una proroga che arriva dopo un lungo confronto con le associazioni. Qual è la fotografia? Le associazioni hanno trovato nell'aiuto che è venuto dalla regione toscana un sostegno vero per superare quella fase di crisi economica che c'era stata dopo il Covid. Con l'aumento dei prezzi, l'aumento dei carburanti, avevano messo in difficoltà in maniera significativa tutte le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario. Con quella misura e intervento che la regione ha fatto è stata data una boccata di ossigeno importante. Alcune hanno sempre problemi nel trovare, nel reperire volontari, ma diciamo che il sistema comunque regge bene. L'invito a tutti i cittadini ad andare a far volontariato presso le nostre associazioni è sempre un invito importante. Una mozione, primo firmatario, Enrico Sostegni delle PD sul cosiddetto payback. Assicurare celermente alle regioni le risorse previste, mediante però soluzioni che evitino ripercussioni negative sulle imprese, con particolare riferimento a quelle di medio-piccola dimensione. Per la Toscana, ricorda il consigliere, sono 400 milioni dovuti per il quadriennio 2015-2018. Il payback deriva da una legge dello Stato e il governo e il Parlamento possono modificare questa norma e possono anche mettere i soldi e evitare quindi che questi soldi poi vengano a gravare, almeno sulle imprese medio-piccoli che producono dispositivi farmaceutici, dispositivi sanitari. Noi come regione non abbiamo altra possibilità che chiedere il pagamento di queste risorse, perché sono risorse che lo Stato ha stabilito essere destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale. Quindi noi possiamo solo chiederle. Il governo però deve intervenire per far sì che questo non gravi in maniera eccessiva sulle imprese, in particolare in qualche modo quelle piccole o piccolissime che potrebbero davvero anche dover chiudere rispetto agli oneri derivanti dal payback. E quindi il Consiglio regionale oggi con questa mozione ha chiesto questo. Governo, intervieni per far sì che questi soldi arrivino alle regioni ma senza pensare sulle imprese produttrice di dispositivi medici, soprattutto quelle piccole. L'Aula si esprime a maggioranza, 23 voti a favore, PD, Italia Vive, Movimento 5 Stelle, 4 no, Lega e Fratelli d'Italia. Si scrive payback, si legge Matteo Renzi, perché è un'iniziativa legislativa dell'allore governo Renzi. È uno dei tanti disastri che il governo Meloni e il ministro Schillaci in ambito sanitario hanno ereditato dai governi di sinistra e di centrosinistra del passato. Non si può pensare in Toscana di scaricare i disastri del centrosinistra sul governo attuale. Il governo attuale ha già fatto tanti sacrifici e tanti sforzi anche per coprire la vicenda payback, ovvero la ripetizione di parte dei profitti utilizzati dall'azienda. Non si può pensare che vada tutto a carico del governo nazionale. Prima questione. Seconda questione. La sanità in Toscana ha uno sbilancio, ha l'incapacità di far quadrare conti, che è strutturale, cioè di anno in anno, anche se arrivassero tutti i soldi del payback dalle aziende o dal governo. Quello sbilancio rimarrebbe e quindi la toppa non riuscirebbe a comunque tappare un buco che è diventato una voragine. Quindi si metta mano agli sprechi veri della sanità toscana. Un testo unificato che ha messo insieme diverse proposte per modificare la legge sull'art bonus regionale. Crescono le agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare. Ad illustrare le nuove norme la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliono usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendono più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con un bonus nazionale. Perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con un bonus, sia aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio, sia abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli Stati Generali della Cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo, un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo. Il provvedimento è stato approvato con un voto unanime dell'Assemblea. La normativa necessaria per migliorare, per agevolare i finanziamenti a favore delle esperienze artistiche e culturali, un'iniziativa che nasce dalla Commissione della quale anche io faccio parte, il lavoro capillare che migliora e rende più concreto il sostegno a iniziative culturali artistiche. È una norma che va nella direzione corretta? Sì, c'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Evocazioni Storiche della Regione Toscana come consiglieri regionali. Abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con delle cifre le rievocazioni storiche e lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. Il Salone delle Feste del Consiglio regionale della Toscana per portare merito al coro arcobaleno per portare merito a un'iniziativa di carattere musicale quindi come tale culturale non solo ma anche sociale e di aggregazione e quindi la Regione Toscana porta merito a queste iniziative. Festeggiamo i nostri 30 anni di attività. L'associazione è un'associazione APS quindi senza scopo di lucro e le finalità della nostra associazione sono quelle di divertirsi, divertire però attraverso il canto portare anche messaggi importanti sia per la crescita dei ragazzi sia per fare delle cose importanti per la cittadinanza e per gli altri. Quindi anche volontariato, tantissime cose fatte in questi 30 anni di cui siamo veramente fieri e orgogliosi perché è un bel traguardo e soprattutto anche se ci sono sempre perché sono bambini, quindi bambini che crescono all'interno del coro che poi qualcuno dopo resta anche collaborando sotto altre forme. È una cosa molto importante, un riconoscimento molto importante, siamo grati alla Regione per questo riconoscimento. Il coro arcobaleno per noi è un pilastro della comunità, ci avvicino in tutte le nostre iniziative, in tutte le nostre manifestazioni, c'è un rapporto di sinergia e di collaborazione che va avanti da anni tra il coro ed il comune ed è ovviamente un momento di aggregazione e quindi di crescita dei nostri ragazzi. Sì, è un grande orgoglio consegnare questo riconoscimento, è un grande orgoglio davvero perché so quanto hanno lavorato in questi 30 anni per portare avanti il lavoro nel coro ed è, credo, una grande cosa per non solo la provincia di Lucca ma tutta la Regione Toscana. Queste realtà di cui la Toscana è veramente ricca sono importanti, preziose per la coesione sociale, per creare legami tra ragazzi, sono attività rivolte principalmente ai bambini che troppo spesso dimentichiamo nelle iniziative. Quindi davvero stamattina è un grande onore per me consegnare questa targa importante del Consiglio regionale. Tradizioni storiche e solidarietà. Si rinnova l'impegno del corteo storico Castello e Sant'Angelo. Arriva il calendario 2025 dove il fotografo Palmiro Stanzucci ha ritratto i figuranti assieme ad alcuni amici dell'associazione che beneficerà del ricavato della vendita. Zia Caterina, Taxi Milano 25. Vestiamo questi vestiti per raccontare la nostra storia, la storia del comune di Pontassieve che ci rappresenta. Vestiamo questi vestiti anche per adoperarci, per dare opportunità di solidarietà, non soltanto la nostra cultura ma anche la beneficenza. In questo caso da più di dieci anni il nostro corteo realizza un calendario che il ricavato delle vendite a offerta libera vengono donate a delle associazioni. In questo caso quest'anno è Zia Caterina con il suo Taxi Milano 25 che ci ha condotto in lungo e in largo per questa bellissima città e per le nostre città limitrofe, Rufina, Pontassieve, Pelago e Bagnarripoli per scattare degli scatti straordinari di Palmiro Stanzucci. Caterina Bellandi, da tutti conosciuta come Zia Caterina, accompagna i bambini e i loro familiari verso gli ospedali pediatrici di Firenze. Intanto, sì, sono Zia Caterina, è vero, però non è vero che guidavo io, avevo un infortunio alla spalla, non potevo lavorare né guidare. Quindi io devo ringraziare tutti questi straordinari figuranti e personaggi che con un caldo che si abbaiava, è vero, venivano a prendermi e riportavano perché io non potevo guidare. Quindi per me è stata salvezza, è salvezza unirsi nelle nostre piccole fragilità. Sono veramente contenta anche di questa malattia difficile che, anche se non respiro, forse dico meno sciocchezze. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale alla presenza del Sindaco di Pontassieve e della Presidente del Consiglio regionale. Siamo contentissimi di dare questo contributo, siamo come Comune di Pontassieve, abbiamo fin da subito sposato il progetto di Alessandro. E davvero io non posso che ringraziare chi ogni giorno con la propria attività, con il proprio volontariato, poi porta a casa anche dei risultati da un punto di vista di beneficenza. Un'iniziativa splendida, un'iniziativa che tiene insieme non solo l'identità del nostro territorio, il corteo storico di Pontassieve ne rappresenta una delle facce più belle ma che ha anche la capacità di saper coniugare aspetti di solidarietà. Grazie per la visione!